buongiorno mia amate pusole questa è la strada che ormai conoscerete benissimo perché ogni giorno la percorro per andare a fare le mie commissioni al supermercato alle poste a comprare i francobolli ma oggi invece sto andando a prendere il taxi oh è arrivato il mio tassista ma siamo vestiti come un altro video ma neanche un altro video penso che non sia ancora uscito allora saremo vestiti come il prossimo video no avevo una giocca rosa che non ce l'ho vabbè in pratica ve lo racconto siamo andata a fare una cosa in ospedale non so se è già uscito il video quindi non posso spoilerarlo ma sono andata in ospedale ma invece oggi questo video qua un po' ballerino perché sto camminando fa molto caldo saranno 72 gradi 24 dovete sapere che ieri l'uno giugno è stato il compleanno del mio grande amore ele sapete quanto bene voglio ad ele no molto più di 7 e in pratica sto andando a prenderle un regalo di compleanno perché domani lei viene a trovarmi no nessuno allora con una scusa io l'ho chiamata e mi sono fatta no ma mi sono fatta abbassare la mamma l'ho chiamata e le ho detto ciao amore passi la mamma che devo capire per domani le mascherine per quando ci vediamo bla 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 in realtà era semplicemente per chiederle che cosa ele avesse chiesto per il compleanno ma dovete sapere che ele è una bambina per niente viziata e quindi non ha chiesto niente cioè è l'unica bambina che ha chiesto una cosa e nient'altro no non è vero non è l'unica però è una bambina molto intelligente ha chiesto solo una cosa e quindi la mamma no il sub non mi ha saputo aiutare ma io ricordo che mesi fa quando eravamo insieme si è tra virgolette lamentata che il suo telefono era molto lento non andava e bla 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 perché lei ha un iphone 4 esatto un influencer così ho pensato di prenderle un iphone nuovo e adesso sto andando nel negozio in cui vengo gli iphone a vedere che cosa c'è fatti auguri amore quindi non metto con il suonare non andiamo su ma cosa se ne fa la legge un su un po' lei lei me l'ha chiesto firma bene ma il mio nome è il tuo il tuo io non ho ancora firmato cosa che iniziava con la andrea si si colà vabbè se no metto solfi tanto no metti andrea scemo ok tieni qua ma questo è il mio di pennarello dai muoviti e se cuore no scrivo sabri perché devo far vedere che cosa ho escogitato in pratica questo io non so se l'avete già visto l'ho regalato ad ale tra tutte le porcherie che ho comprato ma dentro non c'è niente nel senso che lei penserà wow un virtual reality briller dal valore di 2 euro che bel regalo di compleanno e magari sarà triste no conoscendolo a ele le piacerà però in realtà cosa succede che questo ma spiegato ale che è una roba che vedi dentro c'è il telefono boh in realtà virtuale invece lei aprirà dirà ma a parte il senatore perfetto vedrà un regalo rotto ah no sistemato ma che cos'è ma apriamo bene che cos'è non capirà ma dentro dentro ah ok va aperto anche qua aspettate speriamo che lei ci metta meno ad aprirlo perché sennò è finito il video un secondo andrea com'è che si faceva facciamo finta che io non l'abbia messo lì dentro vabbè adesso tiro fuori così e lei dentro troverà un iphone 8 oh mio dio e sai cosa dirà cosa eureka no per me invece non capirà ne sento magari pensa che è finto ma io intelligente cosa ho fatto mi ho fatto il bigliettino ciao amore ti vogliamo tanto bene super auguri sabri andre pica e quindi lei capirà che non è un telefono finto ma è un telefono vero ma così non può fare le foto si beh poi lo può togliere andre oh mio dio allora adesso capiamolo lei lo immagino che lo aprirà così terrà gli occhi davanti quindi dobbiamo metterlo per così ok giusto no mettilo al contrario così lei guarda dentro e no perché vedi lei vede ciao amore ti vogliamo tanto bene ah amore si capì tu capiresti che è un telefono no capiresti o no si perfettamente ma no devi dirmi no si ma dai no andre potrebbe essere un quadretto a me se un telefono fosse così ma smettila non è vero e quindi poi lei capirà se se lo guarda così ma noi glielo facciamo aprire a logica no facciamo così tu glielo dai e dici non è un telefono no però no leviamo gli occhi perché mi hanno già rotto ma perché già costa poco quel regalo gli devi pure i pezzi ma il telefono costicchia ok lei lo aprirà così wow wow che cos'è un quadretto mi hanno regalato un quadretto che ho scritto ciao amore ti vogliamo tanto bene cavolo potremmo sprecarsi un po' di più e invece dove c'è un quadretto con no un iphone 8 ok ma sai cosa tu glielo dai così così glielo dai gli dici mi raccomando io abbia un occhio di riguardo ok glielo dico così allora firmiamolo anche qui per samanta scrivi ma no cosa si pensa che hai sbagliato stai riciclando un regalo no dai tanti auguri ok lo facciamo riciclato no mettiamo tipo tanti auguri emma e poi la cancelliamo watson però emma e così non si vede che è scritto emma però si si vede tanti auguri ele come se avessimo sbagliato sabri ok faccio io andre effetti io non ho firmato si vabbè firmato dentro pica la lampadina bella lampadina complimentoni perché non mi disegni i luoghi per me mi sa che sei bravina ok a posto lei arriva tra 50 minuti abbiamo 50 minuti fermi così no abbiamo 50 minuti per allestire no non ho preso niente palloncini no candela si ok ecco no pensavo fosse mazzurati li ha buttati meno male che me l'hai detto io c'hai capito pensavo fosse qualcosa a buttare invece dovrei aver preso accendo la luce 4 candeline una per te una per me una per ele e una per ale perché almeno festeggiamo tutti insieme e il suo compleanno perché fa 4 anni no e però sei bravina ad avere tutte le cose guarda wow perfette e le vi buttate no no le metto qua così ci ricordiamo aspetta questo vuole chi chi non erano capite al massimo con la cero le accendiamo un po le chi vuole uno snackino lui due zampe due zampe due zampe l'ha fatto andiamo amore andiamo nella galassia cocco come attenzione al pomeriggio mentre vediamo lei e le conandre sul mio divano un po che guarda il tiktok ma cos'è la nipo si guarda sto contro una situazione no ma che problemi ha aspettate perché ci sono delle hit tremende vediamo ma cos'è ma perchè una sorella fa so siena sta in capire la tua sorella ma tu perchè mi fa vedere queste cose se gli lecca gli piedi e questo è un ginocchio comunque che bello leccare i piedi di andre Dov'è la tua pallina che ti ha portato cere? Pallina verde! Facciamo vedere che abbiamo trovato la tua pallina verde? Dov'è? Dov'è, amore? Mi sa che è qua pallina verde, io l'ho vista prima Eccola! Fai vedere quanto sei bravo? Qui, amore Guardate che bravo, è qui Qui Dai, dai che ce la fai Qui Qui Bravissimo! Qui No, è storta, amore Qui Dai Bravo il mio cane E' super intelligente, gliel'hai finito a trovare? Perdona mio, sarò anche abbastanza ignorante Ma cosa stai facendo? E non ho la carta regalo No No, capisco Però è pulita Beh, almeno quello Dai, scusa C'è un bel regalo? Beh Cioè, sembra, guarda, c'è anche i fiorellini Sì Profumata Eh, perché è pulita Se no, non diresti così Guarda l'ordine Parola d'ordine Ciao Prego Ciao, mostro il cioccolò mio Come sei diventata grande Ti sei alzata di un centimetro Ti sei alzata di un centimetro Ti sei alzata molto di più di quanto per a squire Ma come sei fashion? Sì Posso comprare? Eh, Pink Che buono lì perché c'è da mangiare Che buono Sì, perché ne abbiamo altri Sì, ancora ciccioni Sì Noi abbiamo preso solo i pasticcini Un regalo te lo farò poi Eh, hai già avuto il regalo? Eh, non hai messo un regalo Ma le abbiamo preso i pasticcini con quattro candeline Una soffiandri, una te, una io e un'ale Non so se siamo allenati a soffiare Eh, ma per il compleanno No, per la festa della mamma Ma secondo te È per la festa della mamma? Sì Ma che lo siedi? Sono mancata un po' Sì, cattissimo Ce l'hai? No Wow Che l'ha? Che è la tua collezione Su, dietro? Qua è? Night of Ren Calou Ren È uno dei guerrieri di Renzi Siamo fortissime Grazie davvero Non dove andate? Te vado in Italia Perché sei speciale e rara Mi piace il succo O pesca Mi dico di suonare più forte, Sabri Cosa è tropicale? Tropicale è Ananas mango Cacca, vomito, pipì, diarrea Oh, come è quello? Vomito di cammello Sì, che adoro Ma Alessia dove è andata a prendere la cittina? Sto facendo la cacca, mi so Ah Hai fatto la cacca? Perfetto Allora, questi sono quelli che ho comprato io Sono quelli che piacciono a me Un po' schiacciati perché il globo Vabbè, è quello che è Come si chiamava? Non lo so, sono solo che mi ha fatto andare giù a prenderli Beh, giusto Non puoi Ah, stavi registrando? Quindi si sa che i pasticcini sono quelli che piacciono a me Allora Pavolanda, devi soffrire la candelina Come fai che sei il cameraman? So qui in mezzo alla mascherina Ah, posso La mascherina Mamma mia che uomo di casa Come pieghi tu le cose Non sono male Mamma mia Ale Sapete che cosa ho fatto oggi alle 7 e un quarto? Si è alzato e è andato a pulire la cucina Non è che mi sono alzato Mi hai svegliato È ben diverso Ho capito Ma scusami perché io dormo abbracciando te Siccome è il caldo e mi sposti Abbraccio il cuscino Sì Che meravigli faccia a me Quale pasticcino vuoi tu? Ale quale vuoi? Andre quale vuoi? Se no soffia la mamma su uno Lascia il mio posto Mamma quale vuoi? Vado a prendere il telefono Facciamo una bella foto No la mia si è spenta Anche la sua Anche la sua No 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 Se la stanno facendo loro Dai mamma vieni qua Ale vieni qua No la mia è diventata un fiammolo Tanti auguri Ale Andiamo via Uno, due, tre Via L'espresso di serio? Oh Ci siamo diventi gasti Era il soub? No Io ho paura che questi sia troppo scaldati Meglio che lo mangi Sì mangiano E si è da perché Dobbiamo sapere che l'abbiamo preparato Un piccolo pacchettino Fatto con tantissimo amore È il pensiero che conta È il pensiero che conta Ricordati che è il pensiero E specialmente anche la tarta è molto bella Wow La puoi utilizzare volendo la carne Ti giuro che non è un regalo riciclato Per Ele Fante Eh sì Fante l'ha messo lui Eh Vai vai Apriamo questo regalo Non riciclato Non straparlo perché la carta fa comunque parte del regalo Esatto Ovviamente è meglio la carta Cosa potrebbe essere Un ombrello dai te lo dico Vai vai Scarta Spacchetta Wow Cosa può essere Wow Cosa c'è scritto Tanti auguri Sì Ce l'ha scritto Tanti auguri Emma Ma Emma è stato cancellato Noi guarda il pensiero Wow Che cos'è Un Virtual reality Brille Wow Un euro e cinquanta Non vedevi l'ora Sì Apriamolo subito Da qua Da qua Penso Sì Da qua Se non ti piace puoi cambiare Apri Wow Che bello Non vedevi l'ora di averlo Sì Apri apri Un virtuality Ma che ne sappiamo Noi è una roba da due Apri apri Portanto c'è la crisi Apri apri Che bello L'abbiamo già rotto Cosa c'è scritto Ciao amore Ti vogliamo tanto bene Super auguri Sampri Mika e Andre Grazie Che cos'è Un Non lo so Un cos'catutto Non vedo Apri apri Non c'è un quadro Un quadro È uno specchio Oppure è un iphone 8 nuovo Non stai bene Non stai bene Senti auguri Non è un quadro Non è un quadro Non dispiace Tu volevi un quadro E noi ti abbiamo preso il cellulare Mi dispiace Volevi un quadro Sì Beh poi questo puoi togliere C'è la fotocamera Tranquilla Non è falso Anche Ale Andre gli ha detto Mi dice Ma prima come fa a fare le foto Andre è un cazzo di carta Non può fare le foto Poi io faccio il buco e la te Però proviamo a vedere Mika che è finto Sei capace di accendere Non era mio No non era mio Eh no no È per finta Devi dare bacio 1 Bacio 2 Vai intanti Si è acceso ragazzi Si è acceso Ma è la cartigine Che deve fare un accessorio Un accessorio Vai va Grazie Prego Adesso noi Puoi spegnere Perché andiamo a provare Il nostro iphone Cioè veramente Tu avevi finito l'album Te ne mancavano 4 E non avevi la tua figurina Sì Mi mancava l'ultima Mia Cioè rendiamoci conto Beh che cosa posso dire Per chiudere il video Perché ovviamente Poi noi ci siamo messi A fare la festa A provare il telefono A fare le foto Quindi non ho fatto una chiusura Niente Che sono molto 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 contenta Il è stata molto 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 contenta E ti voglio un sacco di bene Ricordatelo sempre E tra poco il mio di compleanno Chissà Musica Musica Grazie a tutti.